Certo, lo so. Stiamo progettando questo piano da moltissimo tempo. Oh, grazie mille, Applejack. Il mio incantesimo è in grado di creare una copia di qualunque pony desideri. Mi servono soltanto un'immagine e un elemento di quel pony. Oh, è questo. Perché mi servono delle copie? Perché Princess Twilight e le sue amiche controllano gli elementi dell'armonia, l'arma più potente di tutta Equestria. Quando avrò finito, anche voi sarete in grado di usare lì. E servirete soltanto a me. Insieme distruggeremo Twilight Sparkle e le sue fastidiosi amiche. Ficcanoso! Una cosa è certa, non ho dimenticato. Starlight Glimmer mi ha sottratto l'alveare, mettendo i miei sudditi contro di me. E adesso io porterò via le sue amiche proprio sotto i suoi occhi. E dopo io la distruggerò. Quando gli elementi saranno sotto il mio controllo, costruirò un nuovo alveare di pony terrestri, unicorni e pegasi. E finalmente governerò di nuovo da regina! Grazie a tutti!